Lasciamoci liberare dalle bende dell'orgoglio. Cristo non si rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti con le nostre scelte di male e di morte. Lui ci invita, quasi ci ordina, di uscire dalla tomba in cui i nostri peccati ci hanno sprofondato. Così Papa Francesco, prima dell'Angelus, recitato insieme a decine di migliaia di fedeli presenti in Piazza San Pietro, ha commentato il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima, che narra la risurrezione di Lazzaro. Il grido di Gesù all'amico, vieni fuori, ha detto il Papa, è rivolto ad ogni uomo, perché tutti siamo segnati dalla morte. È la voce di colui che è il padrone della vita e vuole che tutti l'abbiano in abbondanza. Ci chiama insistentemente ad uscire dal buio della prigione in cui ci siamo rinchiusi, accontentandoci di una vita falsa, egoistica, mediocre. La nostra risurrezione, ha spiegato ancora il Pontefice, incomincia da qui, quando decidiamo di obbedire al comando di Gesù, uscendo alla luce, alla vita. E Gesù ci mostra in Lazzaro fin dove può arrivare il nostro cambiamento. Non c'è alcun limite alla misericordia divina offerta a tutti, ha fatto ripetere più volte ai fedeli Papa Francesco. Il Signore è sempre pronto a sollevare la pietra tombale dei nostri peccati. Al termine della preghiera, il Papa ha fatto distribuire migliaia di copie di un libro dei Vangeli in formato tascabile, invitando i fedeli a portarlo sempre con sé e a leggerlo ogni giorno, perché è Gesù che vi parla. E in cambio di questo dono ha chiesto di fare un atto di carità, un gesto di amore gratuito.